Abbiamo organizzato questo roadshow con il servizio agricoltura per andare nei territori a fare un dialogo con le amministrazioni, con gli amministratori locali, con le imprese, le associazioni, per spiegare le opportunità che rappresenta il PSR, per fare in modo che sia chiaro e trasparente l'accessibilità di queste misure, come funzionano, ci sia anche un confronto sulle criticità in modo che non ci siano sorprese e gli imprenditori agricoli possano comprendere complessivamente quali sono le misure, le risorse che hanno a loro disposizione e fare i loro piani industriali. Vorremmo fortemente che ci sia un trasferimento tecnologico e anche un miglioramento delle capacità produttive nelle imprese agricole perché? Perché vorremmo che si rafforzassero, vorremmo che diventassero sempre più competitive e in qualche modo anche noi come regione, prendendo spunto anche dagli errori del passato fatti con i precedenti PSR, si possa migliorare la capacità di investire e di migliorare anche il reddito delle aziende. Spesso questi bandi si scontrano contro una difficoltà, alle volte a interpretarli, contro qualche ostacolo operativo. Avete lavorato anche su questo? Sì, stiamo cercando e stiamo tentando proprio di semplificare sia per i destinatari del bando ma sinceramente anche per chi dopo li deve attuare dalla parte regionale, insomma per chi fa le istruttorie e per chi deve applicarli perché è una difficoltà di entrambi poi. Per cui cerchiamo sempre più di sintetizzarli, di cercare di schematizzarli e di trovare per quel che è possibile perché purtroppo le regole sono tante, di semplificare a vantaggio di tutto il settore. Vi racconteremo di come la competitività si raggiunge mettendo insieme i vari stadi della filiera, quindi come l'industria agroalimentare può sostenere l'impresa agricola e come le imprese agricole possono essere sostenute direttamente con i fondi del PSR per raggiungere gli standard di qualità che vengono richiesti dall'industria agroalimentare e dai consumatori. La prima misura che abbiamo fatto è quella da 6-1 per ricambio generazionale, quella misura è davvero molto importante, rappresenta un'opportunità per i giovani agricoltori e questo più che mai rappresenta per noi un grande obiettivo, cioè quello di fare in modo che i genitori passino le aziende e i figli e che sempre più giovani si avvicinino al mondo dell'impresa agricola per far sì che quella transizione, quella biodiversità, quella produzione di cibo rimanga intatta. Grazie.